È stato un modo davvero originale per presentare alla stampa e agli amministratori la seconda edizione della Garfagnana Epic Mountain Bike. Lunedì, al termine del Consiglio dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, è stato presentato il programma della manifestazione che si svolgerà il 4 e 5 giugno, trasformando questo territorio in terreno di conquista per gli amanti delle due ruote. Il tracciato, tra i più duri e spettacolari d'Italia, prevede 150 chilometri di sentieri tra le Alpi Apuane e l'Appennino Tosco Emiliano, con 5.500 metri di dislivello. È un evento che partirà da Gallicano e attraverseremo tutta la Garfagnana, passando dalle Alpi Apuane all'Appennino Tosco Emiliano. Siamo circa 200 partecipanti, quindi un grande successo, con atleti che provengono da tutta Italia e non solo. In occasione della presentazione c'è stato il coinvolgimento dell'Istituto Alberghiero di Barga. Gli studenti hanno creato un aperitivo dedicato all'evento. E considerato che il percorso della Garfagnana Epic è tutto immerso nel verde, questo è anche il colore del cocktail, composto dai seguenti ingredienti. Allora, questo cocktail è composto da vermouth bianco, da un po' di crema di banana, aromatizzato con la crema di menta. E per finire per un pizzico di prosecco. Poi tutti insieme per un brindisi, tra amministratori e organizzatori, alla buona riuscita della manifestazione.